Voleva che prendessi il fucile per fare la rivoluzione, ma io sono scappato via. Testimonianza di Bartolomeo Ristorto, detto Bertu del Duca, nato a San Michele di Cervasca, classe 1893, contadino. Mia madre è morta nel 1902. Siamo rimasti sei bambini, il più vecchio del 1889 e il più giovane del 1899. Siamo rimasti con mio padre, mio nonno, mia nonna. Avevamo cinque giornate tra bosco e terra sparsa. Mio padre negoziava dove poteva guadagnare qualcosa. Andava a comprare le galline a Fossano e le portava in Francia. Ogni volta portava 30-40 coppie di pule fino a oltre Vinadio, le portava con il carretto, poi a spalle fino a Isola, fino a Nizza. Si sistemava sulle spalle una specie di cavalletto, come fosse una sedia con lo schienale aderente alla schiena e sopra la mensola ci piazzava la cesta lunga. Tornava dal viaggio e consegnava 10 lire a mia nonna. Ne guadagnava 15 per viaggio se andava bene. E mia nonna gli diceva, beh, hai ancora guadagnato, fortuna di te. E c'era miseria. La gente si accontentava. A dieci anni sono andato da Vacherot a Madonna dell'Olmo, in una cascina di 25 giornate, dai Masuè. Faticavo a caricare il fieno, a caricare i gerbi, erano pesanti. Non avevo più scarpe, tutti i piedi rovinati, ma resistevo perché volevo guadagnare qualche soldo. E poi, se avessi ceduto, la gente avrebbe detto, ha fatto la bambola, ha fatto la coda. La bambola, ossia, non ha resistito. Guadagnavo 27 lire per la stagione. Lì mangiavo un po' di pane e un po' di latte. La donna era sempre ubriaca. Quando con il padrone tornavo dai campi, lui mi diceva, «Bertu, stasera non mangiamo. Senti come puzza?» Lui sentiva da lontano l'odore della cena bruciata. Il secondo anno sono andato dal conte del Columbè. Un bravo uomo. La figlia del conte aveva un giardino di quattro giornate e io lavoravo lì. Il conte aveva il cuoco, la cuoca, le create, erano molto ricchi e io stavo bene. Poi, a Santa Caterina, sono tornato a casa, due miei amici mi hanno detto, «Bertu, andiamo a Nizza. Là si sta bene. Là ci piazziamo di sicuro». Allora mi sono presentato in municipio a chiedere il passaporto, «Ma il segretario mi dice, hai undici anni. Ci vuole tuo padre. Mio padre è andato a Mondovì a vendere le castagne secche. Come va a venire? Allora ci vuole il tuo parzè». Ma il mio parzè ha ottant'anni e passa. Sono andato all'osteria da Tita Fassi. Lui mi ha accompagnato in municipio, così il comune mi ha dato la carta, il permesso per l'espadrio. Come è venuta la notte? Ho preso di nascosto la patagna, il sacco con un pantalone e una camicia e via. Eravamo in quattro. Io, mio cugino Teu e Bastianette, che era dell'ospedale e che poi è morto subito dopo la guerra. E all'inio, Maurizio, Murisin, che è poi rimasto disperso in guerra. Avevamo tutti dagli undici ai dodici anni. Fino a Borgo siamo andati a piedi. Poi in treno, fino a Vievola. Poi con la vettura a cavalli, fino a Nizza. Ci siamo presentati alla Gipiera, vicino a Piazza d'Armi, una fabbrica che fabbricava anche le palline di gesso per il carnevale. Alla Gipiera ho incontrato mia zia, che faceva da mangiare agli operai. Mia zia mi ha detto, Beh, sei anche qui. Eh già, sono qui. Mi meraviglio che tuo padre ti abbia lasciato venire in qua. Eh, ce ne sono ancora sette o otto a casa. L'indomani lavoravamo già a rompere pietre, dalla mattina alle cinque fino alla sera alle sette. E ancora tre ore di notte. Guadagnavo tre lire e sette soldi il giorno. A mangiare pagavo venticinque soldi per un piatto di minestra e un pezzo di formaggio. Dormire sulla paglia. Erano centocinquanta gli operai. Pochi i ragazzi come noi. Al mattino alle cinque faceva pena. Tutto coperto di brina. Faceva freddo. Fosse oggi far provare a qualcuno quella vita. Il 15 gennaio siamo tornati a casa. Come ho visto mia nonna nel cortile di casa gli sono andati incontro mostrando le dieci lire che avevo sul palmo della mano. Tutti i miei risparmi. Beh, hai guadagnato più tu di un prete. Ma non ci vai più un'altra volta, criste. allora ho preso a lavorare le piante pur di guadagnare qualche soldo. Quando avevo cinque lire in tasca ero già tranquillo. Nell'estate del 1911 sono andato a Barcellona a piedi a lavorare al FUNS a fare una strada. lì se volevi avanzare qualche soldo dovevi tirare cinghia e dormire sulla paglia. Poi io e mio fratello abbiamo incominciato a commerciare nei capretti. Ma a raccontare queste cose a chi non ha provato sembra una gran cosa ma se le contassi a quelli della mia età non ci farebbero nemmeno caso perché eravamo tutti uguali allora. C'era chi aveva mezza giornata di più o di meno ma tribolavamo tutti. C'erano dei mansuè in pianura che tremavano che non avevano i soldi per pagare noi manovali alla sera. Uno di questi un padre di famiglia una volta mi ha detto voi guadagnate poco ma io darei fuoco al grano mi tocca andare a impegnare i soldi per pagarvi era miseria anche per loro io ero una testa che mi piaceva guadagnare qualche soldo non mi piaceva la miseria avevo 13 anni sono andato da tita del gavotto ho preso a bota a fare le fascine in un suo bosco di gaggia una lira a massolare tutto il giorno i pantaloni strappati a pezzi le maniche sanguinavano un mese ho fatto questa vita non mangiavo più tanto ero mal ridotto quando ho avuto 18 anni ho pensato di andare nei carabinieri mio padre mi ha detto ah è mica il tuo mestiere allora ho pensato di andare in america e mio padre va ma io i soldi non te li do sempre lavorando di qua e di là è arrivato il tempo che sono partito da soldato era il 10 settembre del 1913 mio fratello era già sotto era caporal maggiore degli alpini in tripolitania mi hanno messo nei granatieri a roma il 17 maggio del 1915 sono arrivato a palmanova sempre con il primo granatieri era già da un po' che predicavano la guerra a noi ci sembrava di andare a nozze noi non sapevamo che cos'era la guerra poi dalle parti di Cividale viene a passarci in rivista D'Annunzio un poeta dall'altra parte del fiume proprio di fronte a noi c'era una garitta con gli austriaci della Dogana il mattino del 24 maggio arriva un capitano tutto armato e ci dice ragazzi da stasera a mezzanotte la guerra incomincia sentirete un colpo da 305 sparato da Palmanova è il segnale della guerra allora io grido agli austriaci della Dogana cosa fate lì aspettate che vi facciamo prigionieri e loro mi rispondono dove vuoi che andiamo se abbandoniamo il posto ci arrestano poi siamo arrivati a Monfalcone tutte le luci erano ancora accese gli austriaci non credevano che noi arrivassimo presto così l'indomani mattina con il mio comandante di battaglione Manfredi siamo andati a occupare una collina ma la nostra artiglieria si è messa a sparare con i 149 non ho poi mai più visto la nostra artiglieria a sparare bene così ne ha ammazzato un bel numero dei nostri e come se non bastasse il comandante di artiglieria è poi venuto ad aggredire il nostro comandante di battaglione a fargli la colpa di non averlo avvertito della nostra avanzata allora il mio comandante di battaglione ha tirato fuori la pistola e voleva ucciderlo e anche il comandante di artiglieria ha impugnato la pistola e voleva uccidere il mio comandante di battaglione dopo sei mesi siamo saliti sul sei busi lì sono andato diverse volte all'assalto poi sono caduto prigioniero ad asiago perché gli ufficiali di sabotino ci hanno tradito appena dopo la cattura incontro un caporal maggiore di trento vestito da austriaco che mi chiede in regalo una delle mie stellette mi dice non voglio sapere che cosa fai a casa di professione ma ascoltami dichiara che fa il contadino anche se sei un maestro se non vai a lavorare in campagna ti aspetta la fame in campagna invece una patata o un uovo riuscirai sempre a rimediarlo era il trentuno maggio del millenovecentosedici alla sera ci chiudono in un forte l'indomani riprendiamo il cammino la gente di trento ci sfotte ci grida italiani avanzate state occupando trento poi c'è un bel paese un posto di villeggiatura lì un generale tedesco con il chiodo ci parla in italiano ci dice italiani la guerra per voi è finita fate il vostro dovere da prigionieri come lo facevate in tempo di pace in un campo di concentramento vicino a vienna restiamo fermi 40 giorni poi con due russi e 12 italiani mi trasferisco in un paese poco lontano una fame parlavamo solo di mangiare lì nel nuovo paese arrivavano i padroni con il sindaco e ogni padrone deve scegliere un prigioniero il padrone che mi sceglie è un vedovo con tre figlie la più vecchia delle figlie è Gobba ho appena raggiunto la sua casa che ci sediamo tutti attorno al tavolo io non capisco una parola loro parlano ed è come se bestemmiassero poi una delle ragazze sparisce e ritorna con tre uova sbattute e un pezzo di pane oh Cristo ha presso un bel bicchiere di vino poi mi dice tu nicht Rausch ma io non capisco allora si mette un dito in bocca sparisce di nuovo e ritorna con un pacchetto da 100 sigarette dopo cinque mesi incomincio a capirli già nel parlare come la Russia ha fatto quello sconvolgimento quando in Russia c'è stata la rivoluzione gli austriaci hanno preso le truppe dal fronte russo e le hanno mandate sul fronte italiano allora arriva una lettera al mio padrone che se mi lascia libero mandano a casa suo figlio io sono deciso a scappare per la campagna ma il mio padrone mi dice no no non finirai in un campo di concentramento non avere paura io so già chi ti prende alla sera arriva uno un consigliere del paese un uomo di 72 anni che ha cinque figli sotto le armi sua moglie che tiene il letto da molti anni ha una figlia del mio tempo vado con lui è un bravo uomo mi paga tre corone al giorno e poi mi regala altri soldi di premio io lo dico gente brava come questa non l'ho mai più trovata il mio nuovo padrone si chiama Bosna Leopold e sua figlia Anna il 3 novembre 1918 con un carro carico di fieno sto andando verso Vienna un soldato che porta a spalle un sacco di patate mi chiede di poter salire sul carro mi dice Krieg Fertig ossia la guerra è finita a Vienna dormo come al solito nell'osteria sento a dire che gli italiani sono già a Graz l'indomani mattina vado a scaricare il fieno e poi prendo la strada del ritorno il fiume che attraversa Vienna è il Danubio c'è un ponte c'è la ferrovia e poi una grossa caserma sento che i soldati austriaci stanno rompendo tutti i vetri della caserma poi vedo un soldato austriaco che arriva sulla piazzetta tiene un maggiore per il collo il maggiore sanguina dal viso oh Cristo mi dico stavolta ci siamo plasmisteno plasmisteno mi grida il soldato fermati fermati io ho i due cavalli che tirano stento a fermarli quel soldato mi porge un fucile mi dice signori tutti caput ci hanno fatto fare la guerra noi eravamo amici e ci hanno mandati al massacro li ammazziamo tutti i signori vuole che io prenda il fucile vuole che mi unisca i ribelli per fare la rivoluzione ma io scappo via li faccio di corsa i 17 chilometri che mi separano dal paese come arrivo al paese incomincio a gridare ragazzi c'è la pace è finita la guerra non togliete più le patate arriva il sindaco e ci dice ragazzi siete in piena libertà non abbiamo più né esercito né niente ascoltatemi nelle campagne tutti sparano ammazzano di qua e di là restate ancora qui con i padroni per qualche giorno il 10 novembre è festa organizziamo un ballo con la gente poi decidiamo di partire io sono già lungo la strada quando mi raggiunge Anna che mi dice volevo ancora salutarti mia madre ti manda 12.000 corone per il viaggio a Vienna saremo 100.000 i prigionieri liberi la città è deserta non si vede un solo borghese tutte le persiane sono chiuse raggiungiamo Lubiana e dopo 20 giorni arriviamo a Trieste il 24 dicembre torno a casa con 15 giorni di licenza dico a mio padre vedi se andavo in America invece di passare questi anni sul carso e intanto mi sono salvato per grazia di Dio e sono tornato a casa carico di pidocchi se andavo in America potevo avanzare un po' di soldi non di pidocchi finisce la licenza e devo raggiungere fiume la città è di nessuno c'è D'Annunzio ci sono i francesi tutti vogliono fiume lì siamo italiani contro italiani vede la politica com'è di sera facciamo le ronde poi arriva il plebiscito allora il nostro colonnello Dina un milanese un bravo uomo ci dice domani mattina andrete a bloccare quella strada non alzate le baionette ma se non si fermano li picchiate nelle gambe l'indomani arrivano dieci navi di italiani di borghesi che gridano viva l'Italia i soldati fiumani hanno un nastrino con su scritto italiani o morte quando la faccenda di fiume finisce il colonnello Dina ci dice io ho fatto tutta la guerra sono rimasto ferito sul sabotino per conto mio chi ha fatto la guerra siete voi dal soldato al sergente ci regala 50 lire a ciascuno e ci dice ricordatevi del colonnello Dina a casa mi aspetta la solita vita sì ho ancora votato prima del fascismo io votavo socialista non ero per il fascio non c'era più la legge durante il fascio sul mercato dei vitelli a Cuneo ho visto i fascisti che davano l'olio di ricino e qui a Vignolo c'era un tale che era iscritto al fascio era un contadino e sembrava cadorna tanta era l'importanza che si dava era soltanto un prepotente voleva dare l'olio di ricino io l'ho picchiato allora voleva mandarmi al confino e quando è arrivata anche qui la guerra io sono diventato un partigiano ho fatto il partigiano da casa i contadini su di lì in montagna erano tutti partigiani io al gorre di Rittana ho conosciuto Duccio Calimberti povero Duccio è andato a morire giù di lì a Centallo e di Rittana di Rittana di Rittana